Oggi in seduta di prima commissione di cui sono presidente è stata votata all'unanimità una risoluzione come me primo firmatario che interessa la saga e interessa in modo speciale e particolare il tratto Pescara-Milano che la nuova società ITA intende ridurre nel numero di voli. Questo per noi abruzzesi non è accettabile e quindi con questa risoluzione noi abbiamo voluto chiedere al presidente e all'intera giunta di fare pressione per Solita perché si mantengano i voli che attualmente esistono. Questo è importante perché volare la mattina significa accedere a Milano e quindi stare al centro dell'Europa, al centro di tutti i voli internazionali e permette quindi di avere un collegamento più importante per tutti gli abruzzesi. Io ringrazio tutti i colleghi consiglieri che hanno voluto far sì che questa risoluzione venisse approvata all'unanimità e sicuramente mi auguro che la regione e il presidente riescano realmente a far sì che l'ITA mantenga i due voli quotidiani.